Vi presento il sovrano di Atlantide, difensore dei mari e amico dei pesci, Arthur Curry, ossia Aquaman. Ed ecco perché nessun uomo è un uomo senza uno chef personale. Vi presento Corvina, figlia di Trigon il Terribile. Cosa? Metà uomo, metà macchina, tutto bellissimo, Sir Cyborg. Boia, la principessa che è brava a socializzare ed è la più elegante fra le elegantissime, Stella Rubia. E il suonato, svitato, con cui lo spasso è assicurato, il treno della festa che ti fa girare la testa, il Super Duca. Vieni? Questo posto è fantastico! Alfred ti presenta in qualunque modo tu voglia, che bello! Cosa ci fate voi qui? Un Super Duca va dove gli pare. A proposito... Alfred, mi sta scappando. Sai cosa fare? Vi presento il suonato, svitato. Ho intenzione di essere la persona che è il socevole. Non mettermi in imbarazzo, ok? Sta tranquilla, mangia un antipasto, guarda la corsa dei fagiani. Corsa dei fagiani? Non ho mai visto una corsa dei fagiani finora. Io non ho mai visto un fagiano. Potrei abituarmi a questo posto? Già, te lo farò visitare. O magari io lo farò visitare a te. Cosa? Sono un gentiluomo come te, pollo! Potrei essere io l'erede. Sai, sarei bellissimo in un busto. Va bene, sfide tra gentiluomini. La prima abilità essenziale di un gentiluomo è la conversazione. Un vero gentiluomo affascina i suoi ospiti anche solo con le parole. Spaccherò nella conversazione, lo so. Sono un grande ascoltatore. I gentiluomini non ascoltano. Sono impegnati a parlare. Soltanto perché un maiale ha una penna. Non vuol dire che sappia scrivere. Ehi, che cos'era? Una battuta appena divertente fa parte del mio arsenale della conversazione, come le storie sull'essere ricchi o le sciocchezze filosofiche. Sciocchezze filosofiche? È il cielo a essere blu o semplicemente è tutto il resto a non essere blu? Penso di aver capito. Le mani lavate non sono mai pulite. Gli alberi sono dei cespugli alti. Una sedia e un tavolo su cui sedersi. Il formaggio con più buchi è svizzero. Si dice interruttore delle luci perché deve interrompere le luci. I fine settimana sono anche l'inizio. A caccia di complimenti si va col fucile. Ho conosciuto un governatore.